Pagliari, come avrebbe detto Tortora, dove eravamo rimasti? Sì, vabbè, sono contentissimo, ovviamente, questa è una piazza che mi vuol bene e a cui voglio bene, quindi adesso dobbiamo, come sempre, metterci sotto, testa bassa e puntare Frosinone. Facce scure, un po' di scoraggiamento, di delusione, bisogna portare un po' di entusiasmo. Dobbiamo pensare a football, dobbiamo pensare che, come ho detto a loro, se la gente sa giocare a calcio non è che se lo dimentichi in 7-15 giorni, quindi, ripeto, allenarsi e cominciare a costruire un profilo positivo. Ultima cosa, scherzo del destino, domenica arriva il Frosinone, un'altra squadra che ha un pezzo di cuore di Pagliari. Beh, anche lì abbiamo fatto i play-off a Frosinone, quindi sarà ancora più piacevole cercare di batterli, ovviamente.